A poco più di due settimane il primo giro di Boa per i saldi estivi che quest'anno hanno visto la campagna fare da pripista. Benevento e i commercianti si dicono soddisfatti rispecchiando il trend nazionale che vuole una crescita dell'andamento delle vendite. Preferiti i prodotti più costosi anche se le offerte si estendono a praticamente tutto. Quest'anno i saldi stanno rispondendo molto bene, c'è un buon afflusso di persone e quindi siamo contenti. Noi abbiamo un buon prodotto e quindi la gente viene perché sa che di trovare delle cose buone. I prezzi sono anche buoni anche se quest'anno siamo partiti un po' più tardi per la stagione che è stata un po' fredda. Fortunatamente si sta lavorando, ci possiamo lamentare. Cosa avete comprato? Un paio di occhiali da sole. Sinceramente l'unica cosa sono appunto questi occhiali da sole, per il resto no. Anche perché non trovo grandissima scelta. E a Benevento si sperimentano anche aperture serali in concomitanza con le manifestazioni che affollano il centro cittadino e che sembrano restituire un buon risultato. Ci siamo allungati un pochettino, però alle 9.15 qua non c'è nessuno, quindi abbiamo desistito. La sera c'è un buon afflusso di persone e finalmente questa città si sta un po' risvegliando. Ovviamente non mancano le voci contrarie, l'e-commerce e la crisi continuano a rendere difficile resistere per il settore. Non c'è proprio affluenza, c'è pochissima gente pure per la manifestazione.